Buona notizia per il telesoccorso di Trieste o se non altro della Friuli Venezia Giulia. La stessa assessore Telesca ha ribadito che l'elisoccorso viaggerà anche di notte. Il servizio di elisoccorso notturno del 118 sarà attivato come annunciato. Lo assicura l'assessore alla salute Maria Sandra Telesca in risposta alle perplessità manifestate dal consigliere Luca Ciriani a margine dell'approvazione, oggi in terza commissione, del piano regionale delle emergenze. E' nostra intenzione attrezzarci per far volare anche di notte gli elicotteri, conferma l'assessore, spiegando che già in altre regioni ciò avviene. In proposito, l'obiettivo immediato consiste nell'omologare per il volo notturno tutte le piazzole degli ospedali del Lab, ovvero Udine e Pordenone, considerando che quella di Trieste già lo è. Secondo Telesca, non è peraltro da escludere che il progressivo potenziamento del servizio di elisoccorso possa in prospettiva contribuire a ridurre il ricorso alle autoambulanze, rendendo le operazioni di pronto intervento ancora più veloci e tempestive. Per quanto riguarda poi le preoccupazioni della consigliera Barbara Zilli, l'assessore alla salute garantisce che la montagna non è assolutamente trascurata. Nel predisporre il piano delle emergenze abbiamo rilevato che in montagna c'erano delle criticità e di conseguenza abbiamo previsto che in quelle aree ci siano ben quattro ambulanze in più. Prendiamo atto che chi ha governato la regione prima di noi non se ne era accorto. Replicando infine le affermazioni del consigliere Renzo Tondo in merito a presunti ritardi nel processo di integrazione tra azienda ospedaliera ed Università di Udine, l'assessore precisa che essa non solo sta procedendo nei tempi previsti della riforma, ma sarà attuata anche prima. Già nei prossimi giorni verrà convocato il tavolo di confronto che dovrà portare alla definizione di un protocollo d'intesa tra le due realtà annuncia, e sottolineando però come l'integrazione avrebbe dovuto partire ben prima, ovvero già all'atto della costituzione della nuova azienda ospedaliera-universitaria. Ancora il consigliere Tondo, preoccupandosi dell'integrazione che ancora non c'è, conferma indirettamente che da presidente in cinque anni egli nulla ha fatto per realizzare ciò che è necessario e che, ribadisce Telesca, noi invece faremo. Rodolfo Ziberna ritorna a parlare del vino, in questo caso ribadendo che si deve respingere al mittente le pretese slovene sul vino terrano. La varietà terrano, iscritta nel registro nazionale tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole, codice numero 233, viene da secoli coltivata nella Venezia Giulia ed in particolare nelle province di Trieste e Gorizia. Si tratta di varietà autonoma e sotto il profilo ampliografico assolutamente non assimilabile con altri vitigni. Detta cultura, inoltre, concorre alla formazione dei vini ammessi alla produzione della Doc Carso, denominazione di origine controllata. Come noto, la Slovenia, con atto unilaterale, ha chiesto all'Unione Europea la costituzione di una DOP denominata Teran, pur mancando sul territorio l'elemento topografico, ovvero un elemento geografico che possa poter richiamare tale denominazione. Ha chiesto l'utilizzo in esclusiva del nome di una varietà di vite, patrimonio collettivo, con l'intenzione di inibire agli altri produttori delle aree con termini l'utilizzo del nome del vitigno terrano per menzionare i vini ottenuti da detta varietà. Personalmente, giudico assai grave e condanno il fatto che il Ministero italiano competente, invece di difendere un sacrosanto diritto sancito dalla storia enologica della Venezia Giulia, si sia dimostrato ad oggi totalmente inerme, invitando addirittura le istituzioni locali e i produttori a trovare un nome alternativo al vitigno, visto anche il grave documento che tale stato di cosa può rappresentare per i viticoltori italiani. Ecco la ragione per cui ho presentato alla Presidente della Giunta, Deborah Seracchiani, e all'assessore regionale Cristiano Schauli, un'interrogazione al fine anche di sapere quali azioni intendano intraprendere a tutela delle produzioni dei vini ottenuti con la varietà di vite terrano nelle aree geografiche summenzionate. E parliamo ancora di agricoltura, in questo caso con l'assessore Schauli che parla della regione e che ribadisce ha bisogno del Carso. L'agricoltura del Friuli Venezia Giulia ha bisogno del Carso. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Schauli, intervenendo oggi pomeriggio al convegno organizzato dalla CMEGNA ZVEZA, l'Associazione regionale agricoltori, e dalla CIA, la Confederazione italiana agricoltori, nella sala maggiore della Camera di Commercio di Trieste. Presente anche il Vice Ministro dell'Agricoltura della Repubblica di Slovenia, Tania Strinisa. Per essere competitivi in agricoltura, ha detto l'assessore, dobbiamo valorizzare le nostre peculiarità, i nostri prodotti di eccellenza, che si identificano con un territorio. Ed il Carso triestino e goriziano rappresenta indubbiamente un contesto unico, la cui identità è strettamente legata alla sua agricoltura e dai suoi prodotti riconoscibili, come il vino terrano. Secondo l'assessore, l'agricoltura del Carso non difetta di capacità manageriali tenuto conto che l'età media degli imprenditori è al di sotto di quella regionale, grazie ad un positivo passaggio generazionale che c'è stato in questi ultimi anni. Occorre invece rivitalizzare il settore, trovando nuovi spazi per le coltivazioni in un territorio difficile e fare nello stesso tempo rete e massa critica per superare quella frammentazione della proprietà che caratterizza il Carso, così come tutta l'agricoltura regionale italiana. Nel ringraziare il Vice Ministro Tania Strinisa per la sua presenza al convegno, Schauli ha sottolineato come vi sia tra carso italiano e carso sloveno un'identità condivisa e molto forte che intendiamo valorizzare. Ci fermiamo qui adesso con l'informazione di Trieste e Gorizia, tra poco arrivano le altre news e vi invito a restare con noi. Grazie a tutti i nostri spettatori,